Lanciamoci al linguaggio di questo eccezionale artista seguendo un breve passaggio dall'Arganna. Il Borromini, dice, si esprime per simboli quasi ermetici, mira alla massima contrazione spaziale, evita le masse, affila i profili e li espone a una luce radente. Inverte spesso la funzione della prospettiva servendosene per ridurre invece che per protrarre lo spazio. Francesco Borromini cominciò a progettare la chiesa di Santivo alla Sapienza a partire dal 1632 su commissione del Papa Barberini, che avete già sentito nominare Urbano VIII, che desiderava l'edificazione di una cappella dedicata a Santivo e annessa all'Università della Sapienza. L'inizio dei lavori risale però un decennio dopo e si protrasse fino al 1660. La principale difficoltà che dovete incontrare Borromini nella prima progettazione fu quella di doversi misurare con un cortile preesistente. Guardate la pianta alla fine del quale incastonare il piccolo edificio. Da quello però che inizialmente apparve come un problema, un limite, il genio di Borromini riuscirà a trasformarlo in un'opportunità e così avvenne. Lo vedremo tra poco per questo progetto definito dal manuale Settis Montanari il più perfetto capolavoro del più grande architetto del barocco. Partiamo dalla facciata. La facciata sorge su una precedente esedra e risulta tripartita su tre ordini. I primi due, guardate, proseguono idealmente il doppio porticato del cortile del palazzo della Sapienza, riecheggiandone le arcate mediante la presenza di questi archi ciechi. Il terzo ordine invece è costituito dal tiburio che ovviamente copre la cupola, scandito da una serie di paraste corinzie e coronato da un ulteriore livello, se volete, che è quello della svettante lanterna. Vediamo ora la pianta. Cercando di descrivere la pianta della chiesa di Santivo alla Sapienza, ciò risulta senza dubbio non facile. Si tratta infatti di una pianta mistilinea, la definiremo, costituita da un triangolo equilatero sul ciascun lato del quale è impostato un semicerchio e i cui vertici, sempre faccio riferimento al triangolo equilatero, risultano spuntati da altrettanti archi di cerchio, li vediamo meglio, ancora meglio qua, aventi praticamente il raggio equivalente a quello dei tre lobi. Attenzione, qual è la forma in parte, se volete, di simulata che evoca questa complessa pianta mistilinea? Provate a osservare la figura che si trova al centro. Si trova un esagono regolare che si ottiene come mediante la sovrapposizione di due triangoli equilateri identici e che altro non sarebbe se non l'esagramma centrale del sigillo di Salomone. Ora non abbiamo tempo per soffermarci su questo aspetto, vi dirò solo che si tratta di un simbolo antichissimo che prima di essere là, voi lo conoscerete sotto forma di stella di David, era allusione ai quattro elementi di terra, fuoco, aria e acqua, come anche, attenzione, della divina sapienza e qua ci ricolleghiamo al luogo per cui fu progettato. Vediamo ora l'interno. Allora la forma dell'alzato interno, lo vediamo qua, prosegue dalla pianta. Osserviamo infatti una serie di paraste corinzie scanalate, cerco di ingrandirvele un po', sempre in ordine gigante, come era avvenuto in San Carlino, che scandisce il ritmo interno dello spazio costituito da tre grandi absidi lobate alternate a tre nicchie scavate nelle pareti convesse. Lo spazio che ne risulta anche qui è inquieto e dinamico, quindi le pareti sembrano scivolare spezzandosi e incurvandosi in maniera imprevedibile e improvvisa con i consueti effetti di contrazione e dilatazione delle masse che abbiamo già visto anche in San Carlo. Alziamo ora idealmente lo sguardo verso l'alto. L'idea profondamente religiosa e spirituale è quella di una progressiva e graduale trasformazione delle forme, tra virgolette, imperfette della pianta missilinea in quelle di un cerchio perfetto, altissimo, rappresentante l'assoluto Dio. La cupola si sviluppa infatti a partire da una trabiazione che ne disegna il perimetro missilineo, l'abbiamo già detto, identico alla pianta. Il suo sviluppo inalzato ha proporzioni slanciate simili ad una copertura a sesto acuto, lo avete visto prima nel spaccato. Gli spigoli missilinei si elevano poi in costoloni, che vediamo qua, che dividono l'area in spicchi alternativamente concavi e convessi, che si raccordano poi al centro nell'anello circolare che funge da apice della lanterna e sembra riequilibrare e placare il movimento frenetico di queste superfici murali. La cupola e l'interno, come potete vedere, risultano anche qui molto ben illuminati dalle diverse aperture la cui luce si riflette nel bianco stucco delle superfici. Andiamo ad osservare l'esterno, in particolare la lanterna. Anche la sommità esterna della cupola, costituita dalla lanterna, è un esempio lampante della visionarietà estrema dell'architettura di Borromini, che sembra qua tradurre in forme architettoniche e scultorie una sorta di senso stesso dell'infinito, dell'assoluto. Si tratta di un edificio raccordato al tiburio, che sta qua sotto, da contrafforti radiali. Da contrafforti radiali vengono detti ad arco rovescio. Presenta una pianta esagonale, lo vediamo qui molto meglio, a facce concave, vedete anche in questo caso, separate da colonnine binate, eccolo qua, sempre corinzie, coronate sopra la trabeazione da pinnacoli che ricordano la forma di candelabre fiammanti. Guardate non solo queste, guardate tutte le ricchissime decorazioni molto originali, scultore, che sono una chiara riflessione del Borromini sul gotico del Duomo del Milano, nel quale lui stesso aveva lavorato. Senza dubbio però l'aspetto più originale della lanterna, e forse quello più spiccatamente barocco, è il fastigio a elica spiraliforme, lo vediamo qua, che la chiude stringendosi verso l'alto fino a dirigere delle lingue fiammeggianti che sembrano, con un effetto quasi stupefacente, sospendere nell'aria il globo crucigero. Scrivono gli autori del De Vecchi Cerchiari, a proposito di questo coronamento a spirale, che fu forse ispirato al mitico modello elicoidale della torre di Babele, la torre di Babilonia, ed equivale, scrivono, a spericolate improvvisazioni che solo lo straordinario talento borromignano riesce a dominare, collegare organicamente, senza sacrificarne l'immediatezza. Come abbiamo già avuto modo di comprendere, l'architettura di Borromini, qua vediamo uno dei pochi disegni ad oggi pervenuti, nasce e si sviluppa da solide conoscenze teoriche, ricordiamo la sua famosa biblioteca con mille testi di architettura, conoscenze che egli stesso però si guarda bene dall'applicare pedissequamente, ma anzi le analizza ossessivamente, ne cerca l'essenza, la natura profonda e solo a quel punto le utilizza, dando loro però nuova vita, un nuovo significato. Elementi quindi apparentemente diversissimi dialogano l'uno con l'altro in un tessuto organico, vivo e vibrante. Concludo con una riflessione. Vi sarete accorti senza dubbio di un aspetto evidente. Non vi è corrispondenza immediata in questa architettura tra interno ed esterno. È infatti impossibile prevedere esternamente ciò che ci aspetta internamente. Il tiburio nasconde la forma della cupola. La lanterna presenta una difformità tra il suo interno e il suo esterno. La stessa pianta è celata dalla facciata, dalla posizione stessa della chiesa. L'effetto, entrando all'interno di Santivo, è senza dubbio sorprendente, in perfetto stile, logica, barocca. Ma contemporaneamente pare che Borromini abbia immaginato come un tentativo estremo per contrastare e neutralizzare ogni spinta, proponendo ad ogni convestità una concavità e ad ogni curva uno spigolo.